eccoci di nuovo insieme con dalla parte degli animali e finalmente io vi spiegherò come fare per adottare questa meravigliosa nuvola di pelo la mia piccola lea allora intanto presentiamo anche la tua mamma perché lea ha un anno ma la sua mamma ne ha tre ed è accompagnata da beatrice e da nama presentiamo la loro storia beatrice allora la loro storia proviene da un grosso recupero e appunto che è avvenuto in più riprese e inizialmente l'associazione animali esotici onlus ha ricevuto una segnalazione anonima di un terreno che era incostudito dove appunto vivevano diversi conigli inizialmente pochi e vivevano promiscuamente ad altri animali e avevano praticamente distenti e solo grazie a dei privati cittadini e dei volontari ricevevano del cibo poi sono iniziati i vari recuperi da parte dell'associazione quindi sono stati anche curati sia da pulci altri parassiti intestinali e poi ovviamente sterilizzati e vaccinati quindi adesso sono sono pronti per essere accolti da una famiglia definitiva e poi voi sapete amici come i conigli ormai siano davvero animali che vivono nelle case degli italiani al pari dei cani e dei gatti sono tutti i nostri compagni in questa meravigliosa arca planetaria che insieme abbiamo il dovere di proteggere e quindi diamo subito il numero di telefono per adottare lea e caramella il 346 3197 367 oppure come al solito potete scrivere a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali e poi